un uomo in più Bartolomei, poi Settembrini, Grassi si libera di un avversario Grassi attende il movimento sulla destra di Caponi gli cede il pallone, ancora Caponi per Grassi si porta il pallone sulle sinistro poi Bartolomei, ha spazio per il tiro la parata, risposta ottima di Tonti poi le cross e c'è il... conclusione troppo schiacciata il centrale sicuro Cardelli Luperini avanza, vede Libertazzi sulla verticale può tentare il tiro, Libertazzi palla per Luperini del Cosenza, che ha battuto la Juve Stabia nel pomeriggio 1-0 per noi sul secondo palo De Cecco non arriva Galli prende il tempo e il cross dentro pareggio del Ponte d'Era sempre inchiudato sulla 0-0 ma lo ricordo la Lucchese all'uomo in meno espulsione decena attenzione cross nel mezzo nuovamente Bartolomei batti e ribatti la mischia e c'è il gollo si è arrivato allo spezzo in estate dopo l'esperienza al Palermo della Scuevas centralmente per Brezovec va a ringhiare su di lui riesce anche a strappargli il pallone il rinvio di Mirko Piacelli di testa Marchi Luperini di Roberto la mette giù va a puntare migliore c'era doppio di Scitum di Roberto cerca il dribbling migliore non si lascia beffare poi scaglia Gatto Marchi pallone che non viene addomesticato in scivolata con Miros che lo aiuta gara che non è particolarmente spettacolare ma è molto intensa Brezovec l'intervento di Luperini scorso anno sulla maglia delle Carpi ci ha messo anche del suo nella miracolosa promozione della squadra di Castori il cross di Scaglia sul secondo palo Cicizzola Mostigo intercettato da Castiglia poi Catellani messo giù senza fallo dice Candussio Gatto Gatto